buongiorno ragazze e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovo video questo video è un video con una nuova location perché siamo in vacanza come vedete c'è l'erba e praticamente è una nuova recensione che non facciamo da tanto tempo ovvero questo delle bolle giganti che praticamente se volete vedere il video di babam vi lasciamo bene questo è il nostro di baluma e io e Giulia vi vogliamo lasciare alla cosa da fare siamo ritornati però prima mi sono dimenticata di dirvi che il costo è di 3 euro e 50 e qui sono scritte tutte le iscrizioni ma non ce ne frega perché noi ve le mostreremo allora io apro e Giulia è praticamente sapone e acqua quindi le ricariche possono essere pure qui così la riuscire a prendere dice che potete con un biglietto di questo andate a mirabilandia io sembrò questo lo lasciamo qua e dopo lo prendiamo ok questa è la secca che non esce più Giulia non lo vuole dire questo però dopo lo questo io aspettate ragazzi dico grazie papamolla papamolla scema muoviti papamolla ok oddio aspetta ecco 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 no non ecco va bene vai così vai così non esce maledì e io ho aperto questo si è finito? no posso? posso soltanto? aspetta è finito? si è finito ok noi abbiamo usato questo contenitore così e vabbè sembra poco questo allora questo contenitore allora lo voglio provare prima io prima io vabbè bagno tutto per bene per bene ora guardate la magia ragazzi avete visto? ora tocca a te ho paura ragazzi ho paura ti amo e per questo ci sono così e così wow ora che come mentre noi continueremo questi palloni votate qual è stata la bolla più grande ciao addio wow e ragazzi prima di finire questo video prima di finire questo video muoviti ok ragazzi prima di finire questo video mentre Giulia fa la bolla io vi voglio dire una cosa sì ragazzi mentre Giulia fa la bolla io vi voglio dire di seguirci su instagram marg e Giulia trattino basso official su facebook marg e Giulia real e ovviamente su youtube che bello che bello che bello ragazzi vabbè praticamente vieni Giulia allora Giulia ora faccio l'ultima volta io e poi perfetto basta allora ok ragazzi questo era il video ultima cosa andate su sbabam e comprate queste cose poi iscrivetevi al nostro canale e guardate questo video e vi amiamo un bacione ciao 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 ciao